C'è un progetto di Enel Green Power Italia per realizzare un impianto eolico con 10 aerogeneratori che interessa un vasto territorio che abbraccia 6 comuni. Acquaviva, con le croce San Felice del Molise, Palata, Castelmauro, Tavenna e Monte Cilfone, un'area vasta in prossimità della Cerreta di Acquaviva, una zona speciale di conservazione, del lago di Guardia Alfiera, Foce, Fiume e Biferno, sotto particolare tutela. C'è chi è preoccupato, non solo ambientalisti, e ha creato un comitato sottolineando come, per dare corpo al progetto, si abbatterebbe una superficie di alberi di quasi 15.000 metri quadrati e si trivellerebbe l'alveo del fiume Trigno per posizionare uno dei cavidotti in un affluente. Il comitato ha avviato una mobilitazione per informare la popolazione sui potenziali impatti del progetto. Domani alle 18 a San Felice del Molise ci sarà un incontro anche con esperti per discutere cosa e come fare per fermare il progetto. La realizzazione dell'impianto, hanno evidenziato gli organizzatori, comporterà la perdita di uso del suolo con centinaia di migliaia di metri quadrati di boschi e colture che dovranno essere convertiti in piazzole strade di nuova realizzazione. L'impatto visivo delle dieci torri eoliche, alte 200 metri, sarà significativo. Secondo il comitato, il progetto stravolgerebbe il territorio con conseguenze negative e irreversibili su agricoltura e paesaggio. Durante l'incontro sarà inoltre chiesta alla regione una moratoria di 18 mesi per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione di megaimpianti eolici e fotovoltaici. Intanto, in tema di sostenibilità, la stessa regione ha assegnato ai comuni di Campobasso, Isernia, Termoli e Larino circa 11 milioni di euro messi a disposizione dai Ministeri delle Infrastrutture ed Economia per acquistare automezzi su gomma ed alimentazione alternativa per il trasporto pubblico locale. Il riparto delle somme riguarda le società Sati di Campobasso, Isernia Servizio Urbano di Isernia, Lanceri di Larino e GTM di Termoli.